Ciao a tutti, bentornati sulla pagina Facebook e sul canale YouTube. Su YouTube siamo quasi 170.000 iscritti. Grazie, continuate ad iscrivervi se vi va attivate anche le notifiche. Oggi parliamo di immigrazione, del governo Meloni, di geopolitica di Africa, partendo da alcuni numeri sconvolgenti. 25 agosto scorso, pochi giorni fa, vi è stato il record di approdi a Lampedusa. Parliamo di 45 approdi in 24 ore. In totale sono arrivati a Lampedusa 1.589 persone in 24 ore, soprattutto dalla Libia e dalla Tunisia. Il giorno dopo, 26 agosto, record di sbarchi in Italia. Più di 3.000 persone sono arrivate in un giorno, in 24 ore in Italia. Mentre il 14 agosto scorso si è superato il numero di 100.000. 100.000 persone sono arrivate in Italia nel 2023. Esattamente il doppio rispetto allo stesso periodo del 2022. Il doppio? durante questi mesi di governo Meloni sono arrivate il doppio delle persone sbarcate, il doppio delle persone migranti rispetto al 2022. Adesso, a fronte di tutti questi numeri tragici, ovviamente il fenomeno è tragico, perché persone che sono costrette ad abbandonare la loro terra e cercare fortuna altrove, già questa è una tragedia. A fronte appunto di questi numeri sconvolgenti, vi leggo due dichiarazioni di due esponenti di spicco di Fratelli d'Italia. Il primo è un deputato, si chiama Malaguti. Sentite che cosa è stato in grado di scrivere? L'invasione è colpa della propaganda della sinistra, che mi sento tirato in ballo perché io non sono di sinistra. Per me sono categorie obsolete, ma questo è un altro discorso. L'immigrazione è aumentata perché i clandestini hanno capito che questo è l'unico paese dove riescono a sbarcare. Ma vi rendete conto della pochezza intellettuale di una decorazione del genere? Cioè fondamentalmente dà la colpa, questo Malaguti, ai governi precedenti. Anche rispetto ai numeri attuali, ci hanno preso i voti, raccontando a cittadini che li hanno votati, alcuni anche per questo, che avrebbero diminuito gli sbarchi, si avrebbero occupati appunto dell'immigrazione clandestina, avrebbero imposto un blocco navale, avrebbero battuto i pugni in Europa. E davanti a questi numeri che segnano il fallimento del governo Meloni sulla questione che ritengo sia stata decisiva appunto per la vittoria della Meloni stessa, a parte il governo Draghi, che proprio l'ha lanciata, gli ha consegnato proprio la possibilità di arrivare al Palazzo Chigi, il deputato Malaguti in colpa ai governi precedenti. Ma Donzelli, che è il luogotenente, il difensore proprio delle cause perse, però un meloniano che fa parte diciamo del cerchio ristretto, il cerchio magico, è andato oltre. Sentite, nonostante questi numeri drammatici, cosa ha avuto il coraggio di dichiarare. Grazie alla Meloni abbiamo evitato che gli sbarchi fossero molto di più e poi inizia a sciorrinare i numeri così a casaccio. Abbiamo aumentato i rimpatri, quasi il 200% in più di persone sono state fermate in Tunisia grazie agli accordi appunto della Meloni con le autorità tunisine. Il blocco navale dunque funziona, l'ha detto Donzelli. Quale blocco navale? Quindi c'è il blocco navale. Adesso vi do un'altra informazione, perché per me è tutto estremamente collegato. Due giorni fa, il 27 agosto scorso, sono stati di Niamey, che è la capitale del Niger, sono arrivate più di 20.000 persone che hanno supportato il colpo di Stato che vi è stato alcune settimane fa in Niger e soprattutto la notizia appunto dell'espulsione dell'ambasciatore francese dal Niger. Perché parlo di questa questione? Perché mentre abbiamo esponenti di spicco del governo che da un lato non riescono minimamente a rispettare le promesse elettorali rispetto alla tematica dell'immigrazione clandestina e che veramente dicono scemenze, si comportano da cialtroni, dicono cialtronerie e non sono i primi Donzelli e questo Malagutie, è in atto in Africa un cambiamento sconvolgente. Ricorderete che già in passato esponenti di spicco del governo, parliamo di italiani, Crosetto, la stessa Meloni, di fronte al fallimento appunto a numeri sconvolgenti rispetto all'immigrazione, hanno avuto il coraggio di incolpare la Wagner, lo ricorderete? Io cerco di ricordarlo perché poi tutto passa in cavalleria, hanno ormai smesso di adottare quella strategia ridicola, cioè incolpare la Wagner dell'aumento degli sbarchi, è colpa loro, c'è questa strategia, vogliono indebolire l'Europa, in particolare l'Italia, è colpa di Putin, questo sostanzialmente è il messaggio, è Putin che fa aumentare il numero degli sbarchi, hanno abbandonato questa strategia mediatica, per una strategia mediatica per tentare di dare un po' di fuffa al proprio elettorato, di convincere, di giustificare i propri fallimenti, hanno abbandonato quella strategia e ne assumono delle altre, non potendo dire abbiamo fallito, perché poi serve anche un po' di coraggio nel dire scusate abbiamo fallito, su questo punto non siamo riusciti a rispettare delle promesse, perché è un'ammissione di responsabilità di colpa rispetto, ripeto, il tema che forse più di ogni altro ha permesso appunto la crescita dal potista elettorale del Partito della Meloni. E quindi non potendo più o non volendo più seguire la strategia mediatica di incolpare Wagner, trovano delle altre strategie mediatico-comunicative. Malaguti incolpa la sinistra, tutti i clandestini sanno che qui in Italia l'accoglienza è facile, quindi vengono qua, ma figuratevi se le persone che scappano dall'Africa subsahariana, subsahariana o da altri luoghi in Africa conoscono, chissà, chi c'è al governo e determina realtà, fuggono perché hanno fame, fuggono perché ci sono guerre, fuggono perché esistono i cambiamenti climatici, fuggono anche per ragioni sanitarie. Chiunque è stato in Africa sa perfettamente quello di cui sto parlando. Oppure Donzelli, che è addirittura un'altra strategia, se non ci fosse stata la Meloni, gli sbarchi sarebbero stati molto di più, nonostante i numeri che abbiamo ad oggi, sono il doppio rispetto all'ultimo anno. Appunto il governo Draghi, o dei governi precedenti, quando la Meloni urlava ogni giorno in Parlamento chiedendo le dimissioni del ministro dell'interno, gridando all'invasione, alle problematiche enormi, ipotizzando il blocco navale, una differente politica all'interno dell'Unione Europea. Ecco, la Meloni si scandalizzava per dei numeri che oggi sono il doppio appunto di quelli dell'anno scorso, quando la Meloni appunto si scandalizzava e oggi Donzelli però dice, se non ci fosse stata la Meloni, gli sbarchi sarebbero stati molto di più. Non c'è nessun politico oggi in Italia, né al governo né all'opposizione, capace di comprendere quel che sta avvenendo in Africa. In Niger c'è stato un colpo di Stato, alcune settimane fa, un colpo di Stato che ha il supporto della popolazione nigerina, o comunque di una fetta consistente, probabilmente della gran parte appunto della popolazione del Niger. Questo perché ci sono stati negli ultimi anni in molti paesi, anche dell'area francofona, dei governi fantoccio, è stato destituito il presidente, si dice democraticamente eletto, ni. Certo ci sono state delle elezioni, ma parlare di democrazia rispetto a determinati paesi dove l'influenza occidentale, in particolare francese è tale, dove nel corso degli anni ci sono stati, pensate a quanti colpi di Stato sono stati portati avanti anche dalla Francia all'interno di paesi francofoni, in un tempo coloni francesi che poi hanno ottenuto più o meno un'indipendenza, un'indipendenza sulla carta, ma non un'indipendenza reale. Ecco, parlare di elezioni sempre regolari, di una democrazia compiuta, non è sempre semplice farlo. Ad ogni modo il presidente Mohamed Basoum, credo si chiamasse, non lo sono scritto, non me lo ricordavo, sì Mohamed Basoum, è stato destituito con il volere, con il favore di una fetta consistente della popolazione nigerina. Questo non significa che io giustifichi colpi di Stato, io non giustifico nessun colpo di Stato mai. Mi indigna il fatto che siano francesi gli americani ad indignarsi rispetto ai colpi di Stato. Credo che nessun paese abbia organizzato con i propri servizi segreti un numero così alto di colpi di Stato come gli Stati Uniti d'America. In giro per il mondo è pensato al colpo di Stato organizzato anche insieme ai servizi segreti britannici per buttare giù Mohamed Mossadegh in Iran, è pensato al colpo di Stato contro Jacopo Arbens in Guatemala, è pensato al colpo di Stato contro Salvatore Zelaya in Honduras, pensate a tutto quello che hanno fatto appunto in America Latina, il tentativo di fatto di rovesciare un potere che era arrivato al potere con la rivoluzione cubana, Cuba, la Baia dei Porci, pensate quante ne hanno fatto, però in Africa, soprattutto chiaramente l'Africa francofona, chi ha dettato legge ostacolando un cambiamento per tentare di controllare, di possedere le risorse africane, l'area francofona sono stati soprattutto i francesi, tant'è che in Africa, ma anche in paesi i cui governi sono contrari, addirittura ultimamente hanno minacciato la possibilità di organizzare una vera e propria spedizione militare per ristabilire, come dicono loro, la democrazia in Niger, quindi sono contrarissime alcuni paesi, alcuni governi di alcuni paesi al colpo di Stato che c'è stato in Niger, ma in realtà fette consistenti della popolazione, della pubblica opinione di questi paesi che sulla carta sono contrarissime al colpo di Stato in Niger, supportano il colpo di Stato in Niger perché milioni di cittadini africani detestano i francesi perché hanno conosciuto le loro angherie, le loro violenze, i loro taglieggiamenti mascherati da sostegni politici, la loro geopolitica predatoria fatta anche dopo la teorica, del teorico ottenimento dell'indipendenza all'interno dei paesi ex colonie africani, l'Africa francofona, il franco-sefeano, ho parlato tante volte, una volta ne parlai addirittura da Fazio, la Meloni ha dimenticato evidentemente certe tematiche. Sta succedendo questo in Africa, vi è nato un cambiamento sconvolgente, tant'è che dopo il colpo di Stato in Niger decine di migliaia di persone hanno manifestato in centro, nella capitale di Niger, intorno all'ambasciata francese, sventolando bandiere dell'Algeria perché l'Algeria è stato il paese che più di ogni altro ha lottato anche contro le violenze commesse dai servizi segreti francesi e l'organizzazione dell'armese greco, lo che hanno fatto i francesi in Algeria è sconvolgente per ottenere un'indipendenza, quindi bandiere algerine e bandiere russe, manifestanti che inneggiavano a Putin, pensate quel che sta avvenendo. Non viene raccontato, non viene detto, viene taciuto e si preferisce appunto evitare di affrontare determinate tematiche, anche geopolitiche, che hanno chiaramente dei legami con l'immigrazione clandestina, perché altrimenti si dovrebbe anche affrontare il tema del neocolonialismo, del neoimperialismo che c'è stato e c'è tuttora appunto in Africa da parte soprattutto dell'Occidente. È in atto un cambiamento sconvolgente, però ripeto, i nostri politici, guardate quello che fanno, cioè i politici di questo governo, nonostante la Meloni abbia narrato anni fa, abbia scelto una narrazione politica anche a sostegno di determinati movimenti, chiamiamoli neoindipendisti, indipendentisti, come c'è il neocolonialismo, neoindipendentisti africani, soprattutto, che stanno crescendo e io spero che riescono a crescere sempre più, perché sono soprattutto gruppi di giovani, gruppi politici di giovani in tanti paesi, in Mali, in Costa Lavori, in Burkina Faso, in Repubblica Centroafricana, ovviamente in Niger, che veramente rivendicano il diritto sacrosanto di vivere a casa loro, di ottenere la gestione delle proprie risorse, le proprie ricchezze e di cacciare i colonialisti o i neocolonialisti che continuano o tentano o cercano, appunto, di continuare a dettare legge e di sfruttare le risorse, appunto, il continente probabilmente più ricco del mondo che, appunto, l'Africa, depredata e che continua ad essere depredata. Io, quindi, io non sostengo alcun colpo di Stato. Mi indigna, appunto, l'indignazione ipocrita di determinati paesi come la Francia e gli Stati in America rispetto a quel che sta avvenendo in Niger, però fotografo una realtà, una realtà fatta, ripeto, di milioni di giovani che oggi sostengono il colpo di Stato in Niger, sostengono la cacciata dell'ambasciatore francese e si augurano come si è augurato, come ha dichiarato, appunto, pochi giorni fa all'interno dello stadio, appunto, di Niamèi. Amadou, che è uno che fa parte del Consiglio Nazionale per la salvaguardia della patria, i golpisti che hanno buttato giù, appunto, questo governo democraticamente eletto, ma fantoccio della Francia. Questo è innegabile. Pensate, ha detto, la lotta non si fermerà fino a quando non ci saranno più soldati francesi in Niger. Questa dichiarazione accende gli animi di decine di milioni di cittadini africani che sperano di poter continuare, appunto, a vivere nei paesi africani, di prosperare, di trovare lavoro, di sfruttare in maniera sacrosanta le loro ricchezze e vogliono cacciare via i francesi o, in generale, gli occidentali e pensano che avvicinarsi alla Cina o alla Russia possa essere anche un modo più semplice per riuscire a cacciare via i colonizzatori o i neocolonizzatori che sono, per lo più, appunto, grandi imprese, multinazionali o gruppi militari occidentali. Questo è il mondo che sta cambiando e noi in Italia abbiamo politici che tentano giustificare i loro fallimenti dicendo scemenze e che non riescono minimamente, appunto, a comprendere quel che sta avvenendo nel mondo intero. Pensate anche all'allargamento del gruppo dei BRICS dal punto di vista geopolitico. Per me è nato un cambiamento sconvolgente, ma noi abbiamo questi politici. E quando parlo di ipocresia, e vi saluto, mi riferisco ancora di più poi a un altro aspetto specifico. Ve l'ho detto all'inizio, no? Il 25 agosto record di approdi a Lampedusa. Per lo più i luoghi dai quali provengono appunto i migranti e sono arrivati il 25 agosto scorso, 1589 persone in un giorno a Lampedusa, sono per lo più la Libia e la Tunisia. Non dimenticate mai che la Meloni era Ministro della Repubblica, se non era Ministro degli Est, era Ministro della Giuntumma, era Ministro della Repubblica, non un deputato semplice, un Ministro della Repubblica. Faceva parte appunto del Consiglio dei Ministri e votava all'interno del Consiglio Ministri dell'ultimo governo presieduto da Silvio Berlusconi quando l'Italia si piegò ai diktat di Napolitano, che a sua volta si era piegato ai diktat di Obama, soprattutto poi di Hillary Clinton e di Sarkozy, che hanno portato avanti la guerra in Libia non per salvaguardare i diritti umani, perché Gheddafi fino al giorno prima era un loro amico, Gheddafi ha finanziato la campagna di Sarkozy, Sarkozy l'ha accolto a braccia aperte, consentendoli di piazzare le tende a poche decine di metri dall'Iseo, in un giardino di uno splendido hotel appunto a poche decine di metri dall'Iseo, si è fatto finanziare da Gheddafi appunto la propria campagna elettorale, ma poi evidentemente, uno perché aveva paura che Gheddafi potesse rivelare determinate informazioni, due perché Gheddafi si stava avvicinando a Cina e a Russia, stava ipotizzando anche la creazione di una moneta panafricana, basata sul dinero libico, capace anche nel corso degli anni, di soppiantare l'ingerenza politico-finanziaria del Franco SFA, una moneta del Franco francese che ha tutt'ora in un certo senso un legame stretto con la banca centrale francese, diciamo la banca parigina, ecco per questo è stata portata avanti con la guerra in Libia, contro oltretutto gli interessi italiani, la total contro gli interessi di Eni, in più Hillary Clinton era già in atto un tentativo di indebolimento di alleati della Russia o magari futuri alleati della Cina, la geopolitica americana, ecco tutto appunto anche contro, innanzitutto che il popolo libico guardate come sta la Libia, ma poi ovviamente gli interessi italiani, la Meloni era ministro della Repubblica, Ignazio Larussa era ministro della difesa, oggi è seconda carica dello Stato, Grosetto se non erro, poi lui dice che si voleva, si era opposto eccetera, però era sottosegretario alla difesa, oggi è ministro della difesa, cioè gli stessi che, e concludo, non riescono minimamente ad affrontare il tema dell'immigrazione che dicono scemenze sulle responsabilità, prima il gruppo Wagner, poi dei governi precedenti della sinistra, oppure elogiano il governo Meloni come Donzelli, se non ci fosse lei gli sbarchi sarebbero aumentati nonostante dei numeri sconvolgenti, uno, non sanno comprendere quel che sta avvenendo in Africa e dovrebbero comprenderlo magari anche in primis per supportare dei movimenti sovranisti, nel senso buono della parola africani, che hanno tutto il diritto di rivendicare i loro diritti e questo sarebbe nell'interesse non soltanto ovviamente dei popoli africani di questi movimenti, ma anche dell'Italia stessa. Due, non riescono appunto a leggere a leggere la realtà, tre hanno degli scheletri negli armadi sconvolgenti, perché la Libia è stata indebolita, bombardata, in un certo senso divisa, hanno permesso anche la creazione di un vuoto di potere all'interno del quale poi sono entrati anche i russi, la Wagner centrata in Libia, o comunque la perdita di interessi italiani e chiaramente violenza e morti in Libia, erano le persone che stanno oggi al governo. La Meloni era ministra della Repubblica. Vi invito ancora una volta a non farvi abbindolare da queste comunicazioni politiche da Cialtroni, vi invito ancora una volta a coltivare la memoria, perché è importante coltivare la memoria, e a cercare anche di unire i pezzi, quel che sta avvenendo in Africa, il tema dell'immigrazione e anche, non la nascita che già determinati movimenti politici in Africa hanno diversi anni, già Sankara, il grande Sankara, lottava per i diritti, per il proprio popolo e contro il capitalismo finanziario, il fondamentale internazionale, certi prestiti da strozzini che vengono fatti appunto dagli istituzioni finanziarie internazionali. Però soprattutto negli ultimi anni sta nascendo una generazione di giovani africani che stanno lottando veramente con grande dignità, con grande consapevolezza, con una consapevolezza nuova. Studenti che hanno studiato, che hanno approfondito tematiche e che vogliono una reale indipendenza, non soltanto un'indipendenza sulla carta, noi siamo indipendenti, abbiamo ottenuto un'indipendenza dalla Francia, no? La cacciata di militari francesi, la cacciata di multinazionali francesi e non possiamo che supportarli, non possiamo che stare dalla loro parte. Io personalmente so dalla loro parte. Grazie a tutti e se potete diffondere il video. Ciao!